e finale duecento per falla junior femmine alla zero Federica Ferrari sport time di Alzano alla uno Giulia Pavanello team Veneto Gorsia due Claudio Isabella Barbara Aurelia Nottoni alla tre Cristina Caruso alla quattro Anna De Feo Piavenuto Sandonà in corsia cinque Fabiana D'Ambrogio Mediterranea Nuoto in corsia sei Alice Marini Canotiri Baldesio alla sette Gabriella Desiati Sport Project in corsia otto Dolores Marni Sport Management alla nove Alessia Checchi Aquatic Center e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Prende il comando Anna De Feo a 50 metri dalla conclusione di questa finale 200 per falla junior femmine. 35 e 0-4 i suoi terzi 50 metri. Anna De Feo alla 4, Cristina Caruso alla 3, Alice Marini alla 6, in corsia 5 Fabiana D'Ambrogio, 4 atleti vicinissime che si giocano le medaglie di questi in 200. Farfalla junior femmine, ultime bracciate. 2-15 e 50, Anna De Feo, Piavenoto Sandonà. 2-15 e 54, Cristina Caruso, CSR Granda. 2-16 e 19 per Fabiana D'Ambrogio, Mediterranea Nuoto in terza posizione. Tempi classifiche confermate, vince Anna De Feo con lei sul podio. Cristina Caruso, Fabiana D'Ambrogio. La prossima finale è la finale dei 100.